Il vento soffia sulla steppa ghiacciata. Un tempo qui c'erano migliaia di mammut. Ora ne resta solo un piccolo branco che avanza lento nella neve bagnata. Il ghiaccio si sta ritirando, l'inverno non è più lo stesso e senza accorgersene questi animali stanno camminando verso la loro fine. Questa è la storia di come i mammut sono scomparsi. Non in un solo giorno, non con un'unica catastrofe, ma con una serie di piccoli cambiamenti, di scelte, di errori che alla fine hanno spento per sempre una delle creature più incredibili che la Terra abbia mai visto. Per conoscere la loro fine dobbiamo prima tornare all'inizio. Chi erano davvero i mammut? Per noi oggi sono quasi una leggenda. Enormi elefanti pelosi, con zanne curve e giganti, persi in un paesaggio di neve e ghiaccio. Ma per migliaia di anni, per gli uomini primitivi, i mammut non erano una leggenda. Erano la quotidianità. I mammut erano parenti stretti degli elefanti. Alcuni erano più grandi, altri più piccoli. Il più famoso è il mammut lanoso. Alto anche tre metri alle spalle, rivestito di un fitto pelo marrone. Sotto il pelo, uno strato spesso di grasso che lo proteggeva dal freddo. Le orecchie erano piccole per non perdere calore. Le zanne, lunghe e curve, potevano superare i quattro metri. Si muovevano in branchi, madri, piccoli, giovani maschi. Seguivano i pascoli, cercando erba secca, muschi, radici. Vivevano in un mondo duro, ma che conoscevano bene. Un mondo di neve, vento, pianure gelate e orizzonti immensi. Intorno a loro c'erano altri giganti. Rinoceronti lanosi. Bisonti enormi. Gatti dai denti a sciabola. Orsi delle caverne. L'ultima grande età glaciale era un'epoca di colossi. Una terra fredda, ma piena di vita selvaggia. Per gli umani, i mammut erano tutto. Cibo, ossa, pelle, zanne. Un mammut ucciso voleva dire carne per settimane. Per i nostri antenati, quella carne non era un lusso. Era la differenza tra vivere e morire. La arrostivano sul fuoco, la affumicavano. Cercavano in ogni modo di conservarla più a lungo possibile. Oggi, per fortuna, non dobbiamo inseguire un mammut per mangiare. Se ti piace l'idea di viaggiare nella storia, anche attraverso quello che mettiamo nel piatto, c'è anche il nostro canale di cucina, che curo insieme a Giulia. Partiamo da ricette semplici e piatti tradizionali. Ma ogni volta raccontiamo anche un pezzetto di storia. Se ti va di fare questo viaggio anche in cucina, passa a trovarci. Ma adesso torniamo a loro, ai mammut. Da un mammut si ricavavano tendini per le corde, pelli per le tende, ossa per costruire ripari. In alcune zone sono state trovate vere e proprie case fatte con ossa di mammut e ricoperte di pelli. Nelle caverne d'Europa ed Asia compaiono incisioni e disegni che li ritraggono. Vuol dire che l'uomo non solo li cacciava, ma li osservava, li studiava, li raccontava. Per gli uomini di allora, i mammut erano parte della loro storia, tanto quanto oggi lo sono per noi i cavalli o le mucche. Eppure, anche i giganti possono cadere. Il mondo dei mammut era costruito sul ghiaccio. Finché il ghiaccio reggeva, reggeva anche la loro vita. Durante l'ultima era glaciale. Enormi calotte di ghiaccio coprivano buona parte del nord del pianeta. Il livello del mare era più basso. Dove oggi c'è acqua, allora c'erano terre emerse, steppe, praterie fredde. I mammut vivevano in questo grande corridoio gelato, che dalla Spagna arrivava alla Siberia e oltre. Ma la terra non è mai ferma, il clima cambia, sempre. Circa 12.000 anni fa, l'era dei ghiacci iniziò a finire. Le temperature cominciarono a salire. Non in un giorno, non in un anno, ma lentamente, secolo dopo secolo. I ghiacciai iniziarono a ritirarsi. Il livello del mare salì. Le grandi steppe gelate si trasformarono. L'erba secca che i mammut brucavano si ridusse. Al suo posto arrivarono boschi, paludi, nuove piante. Per molti animali non fu un problema. Alcuni si adattarono, altri migrarono. I mammut, però, erano specialisti del freddo. Avevano un corpo perfetto per l'inverno eterno. Ma non per un mondo che stava diventando più caldo, più umido, più verde. Immaginiamo un branco di mammut in questo momento di passaggio. I piccoli fanno fatica a trovare cibo perché l'erba è meno abbondante. Le vecchie vie di migrazione sono cambiate. Là dove prima c'erano pianure ghiacciate, ora ci sono fiumi gonfi, laghi, fanghi profondi. I territori si restringono. I mammut devono condividere le zone migliori con altri erbivori. Il clima che cambia non porta solo meno cibo, porta anche più malattie. Parassiti che prima non sopravvivevano al grande freddo iniziano a diffondersi. Inverni meno rigidi significano anche estati più lunghe. E in estati più lunghe si moltiplicano insetti e microbi. Per un singolo mammut, un anno può sembrare simile al precedente. Ma se guardiamo i secoli, tutto si muove. I branchi diventano più piccoli. Alcune popolazioni isolate scompaiono senza lasciare traccia. Ma c'era un altro protagonista. Un animale piccolo, agile e molto più debole. L'uomo. Quando il clima iniziò a cambiare, anche gli esseri umani stavano cambiando. Le loro armi diventavano più efficaci. Le lance avevano punte migliori. I gruppi di caccia erano più organizzati. I cacciatori sapevano usare il territorio, tendere in boscate, sfruttare il panico degli animali. Un mammut adulto era un avversario pericoloso. Bastava una carica per uccidere un uomo. Ma una volta che il branco andava nel panico, un precipizio, un lago ghiacciato, una palude, bastavano a trasformare la forza del mammut nella sua trappola. Non abbiamo prove che l'uomo da solo, in poche generazioni, abbia sterminato tutti i mammut. Ma sappiamo che dove arrivava l'uomo moderno, i grandi animali, spesso, iniziavano a scomparire. Non è solo una coincidenza. La combinazione è letale. Meno habitat adatti, meno cibo, più caccia. Ogni branco che scompare è un pezzo di futuro che si spegne. C'è un dettaglio che rende la loro storia ancora più fragile. La dimensione dei gruppi. Quando una specie comincia a ridursi, spesso non scompare subito ovunque. Restano piccole popolazioni isolate in angoli del mondo ancora favorevoli. Nel caso dei mammut, alcune di queste popolazioni rifugio si trovavano su isole lontane e fredde, come l'isola di Wrangel nell'Artico. Qui, i mammut sono sopravvissuti molto più a lungo che nel resto del mondo. Quando sul continente erano già scomparsi da migliaia di anni, su queste isole camminavano ancora piccoli mammut nani, più piccoli dei loro antenati, adattati a un ambiente limitato. Ma vivere in pochi, isolati, ha un prezzo. Meno individui vuol dire meno variabilità genetica. Vuol dire che malattie, difetti, fragilità possono diffondersi più facilmente. Basta una tempesta, un inverno particolarmente duro, una malattia portata da altri animali o dall'uomo e un'intera popolazione può essere cancellata. Alla fine, anche queste ultime isole silenziose si svuotarono. L'ultimo mammut del pianeta è morto senza sapere di essere l'ultimo. Per lui era solo un altro inverno. Per la storia della Terra era la chiusura di un capitolo. Eppure, i mammut non sono scomparsi del tutto, non dalla memoria del pianeta. Il gelo ha conservato molti dei loro corpi. In Siberia, in Alaska, nei suoli perennemente ghiacciati, sono stati trovati mammut quasi intatti. Non solo ossa, corpi interi, pelle, pelo, contenuto dello stomaco, perfino occhi ancora riconoscibili. Alcuni sono stati trovati da bambini che giocavano, altri da cacciatori o da chi cercava avorio lungo i fiumi del nord. A volte il terreno cede, il ghiaccio si scioglie e da una parete di terra appare una zampa enorme, coperta di pelo, rimasta lì per migliaia di anni. Per gli scienziati, questi resti sono una miniera di informazioni. Dallo stomaco capiscono cosa mangiavano, dalle ossa capiscono che vita facevano, dal pelo e dai denti capiscono il clima in cui sono cresciuti, dal DNA li possono confrontare con gli elefanti moderni e ricostruire il loro albero di famiglia. Ogni mammut trovato nel ghiaccio è una prova concreta. Non è solo un fossile secco in un libro di scuola. È un animale vero che ha camminato, ha avuto freddo, fame, paura. ha seguito il branco, ha protetto i piccoli. C'è un ultimo capitolo della loro storia che riguarda direttamente noi. Il DNA. Oggi siamo in grado di leggere il loro codice genetico e alcuni scienziati stanno cercando di capire se sia possibile creare elefanti con alcune caratteristiche da mammut. non sarebbe il mammut originale ma un elefante adattato al freddo con più pelo e più grasso da far vivere in ambienti simili a quelli di un tempo. L'idea è sperimentale e molto discussa. C'è chi la vede come un modo per studiare meglio il passato e aiutare certi ecosistemi. C'è chi teme che sia solo un gioco pericoloso con la natura ma il punto è un altro. Per millenni gli uomini hanno disegnato i mammut sulle pareti delle caverne. Oggi li riscrivono dentro ai computer dentro alle sequenze di DNA. Questo dice quanto potere abbiamo sul mondo che ci circonda. la storia dei mammut però non è solo una curiosità del passato parla anche del presente. I mammut non sono scomparsi per un solo motivo. Il clima è cambiato i loro habitat sono diminuiti la caccia è aumentata i branchi si sono ristretti fino a diventare troppo piccoli per resistere è una combinazione di fattori ed è la stessa combinazione che oggi sta spingendo verso il bordo tante altre specie rinoceronti elefanti tigri orsi polari animali che per noi sono normali come i mammut lo erano per i nostri antenati ma che potrebbero diventare domani solo immagini in un libro o scheletri in un museo se un giorno passerai davanti allo scheletro di un mammut in una sala espositiva fermati un momento non vederlo solo come un mostro preistorico dietro quelle ossa c'è un branco intero che si muoveva sulla neve ci sono piccoli che seguivano la madre ci sono notti di tempesta e lunghe migrazioni sul ghiaccio quello scheletro è la prova che anche i giganti possono scomparire e ci ricorda una cosa semplice oggi a decidere il futuro di molti animali siamo noi possiamo continuare a consumare abitate specie come se fossero infinite oppure possiamo scegliere di proteggere quello che rimane i mammut non torneranno più come prima il loro mondo di ghiaccio è finito per sempre ma la loro storia è ancora qui è conservata nel ghiaccio nella terra e nei musei e ogni volta che la raccontiamo ci mette davanti a una domanda chiara cosa faremo con gli animali che vivono oggi sul pianeta se questa storia ti ha fatto vedere i mammut con occhi diversi resta con me in questo viaggio sul canale eclesso ogni grande storia del passato diventa un modo nuovo per guardare il presente per guardare per guardare per guardare per guardare